Le squadre ANAS in collaborazione con il Comune di Vibo Valencia sono state impegnate durante la giornata di oggi nelle attività di rimozione dei rifiuti abbondanti sulla strada statale 182 dalle Serre Calabre, dalla stazione ferroviare di Vibo Pizzo verso il Bivio di Longobardi e nei pressi di Vibo Marina e lungo la strada statale 18 Tirene Inferiore nel tratto compreso del Bivio di Longobardi fino al Bivio di Vibo Pizzo. Le attività eseguite in sinergia e in collaborazione con il Comune che si occuperà dello smaltimento sono orientate al mantenimento del decoro per contrastare l'abbandono illegale di rifiuti solidi urbani lungo la strada statale al fine di prevenire pericoli per la viabilità all'ambiente e la salute pubblica. ANAS è sempre orientata al mantenimento del decoro lungo strade di propria competenza e svolge anche frequentemente interventi di pulizia con mezzi e fondi propri. L'incessante e nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende però questa attività sempre più difficoltosa e dispendiosa. Ovviamente ci si augura che attività di questo tipo debbano sempre diminuire, evitare interventi di pulizia straordinaria e continuare nella manutenzione ordinaria anche perché la Calabria deve mostrare il volto più pulito. E questa è anche una questione di civiltà.